Nonostante una prima smentita di Bonavitacola, i cittadini vogliono chiarezza. Con una nota stampa il Comitato Battipaglia dice no, rivendica. Apprese le notizie che circolano, secondo le quali Battipaglia sarebbe stata scelta come sede per un sito di trasferenza, chiede che la Regione, o tramite l'assessore all'ambiente, o il Presidente stesso, smentisca questa gravissima indiscrezione. Altrimenti apriremo una nuova fase di lotta e di mobilitazione che convolga l'intera cittadinanza, alla quale chiediamo ufficialmente che si aggiunga l'amministrazione comunale, con atti seri, veri, gravi, concreti e soprattutto immediati. Ed ancora si legge nella missiva, chiediamo al Sindaco che attui il blocco immediato di tutte le attività connesse al CDR, dal transito dei camion su tutto il territorio cittadino, sino alla chiusura dell'impianto. Il tempo del minuetto è finito. A Piazza della Madonnina è prevista per stasera un'assemblea aperta a tutti i cittadini.